C'è nell'aria affetto e frenesia, sembra un po' magia, che avventure ci aspetteranno, stando qui in compagnia. C'è un branco di forti e coraggiosi eroghi, sono forti e forti, tutto insieme a noi, Cici Love. Ah, vedo che hai una vera passione per i prodotti per il pelo, Chloe. Appena finisco col signor Jinx ti farò un taglio speciale. Bella sedia, eh Rocky? Tranquilla, Cici, c'è tempo per tutti. Oh, sta' attento, signor Jinx! Come al solito. Ti piace questa acconciatura, Chloe? E invece tu, Rosie, quale vorresti? Rosie? Rosie! Ma dov'è finita? Oh, deve essersi spaventata quando prima ho detto taglio, ma non pensavo che fuggisse via. Dovete andare a cercarla. Sì, anche tu, Rocky. Trovate Rosie, conto su di voi. Battete la zampa! Guarda, Chloe, là, sulla mongolfiera! Quella è la coda di Rosie! Oh, no! È troppo tardi! Non riusciremo mai a riprenderla! Potremmo servirci di quelle liane e dondolarci fino a che non raggiungiamo gli alberi! Oh! Magari potremmo mangiare della pizza da... Muoviti, Rocky! A me piaceva di più la seconda alternativa! Oh, qui balla tutto! La mongolfiera si sta allontanando! Rocky, ti prego, smetti di saltare! Eh? Non sono io! Sono i troll degli alberi! Io ve l'avevo anche proposto di andare a mangiare la pizza! Cosa? Stanno arrivando! Attenzione ai loro denti! Oh, no! Presto! Afferrate la liana! Oh! Oh! Che botta! Ma dov'è finita la mongolfiera? Che succede? Attenzione! Attenzione vulcanica! Speriamo di no! Sono solo scimmie spino a fuoco! Belle scimmiette! Ciao! Allora, come state? Per quale motivo siete arrabbiate? Guardatevi intorno! È una così bella giornata! Scusate! Scusate! Qualcuno di voi mi ascolta? Avete per caso visto un cane in una mongolfiera? Mi rispondete? Beh, ora ci sono tre cani in una mongolfiera! Rocky, questa non è una mongolfiera! È una bolla! Ah, quindi è una bolgolfiera! Guardate! Quella è la nostra bolgolfiera! Cioè, voglio dire, mongolfiera! Forza! Correte! Correre? Sì! Anche se... Più di così! Oh! Andate più piano! Ma che fai? Torna giù, Rocky! Rosy! Sei così diversa! Ma non è Rosy! Chi sei tu? E dov'è Rosy? Rosy! No! Si è buttata di sotto! Bene! Visto che decisamente non era Rosy, direi che possiamo anche tornare da Anna! Sì! Non vedevo l'ora! Sì! Mi ormongolfiera! Oh! Ho sentito anche voi! Oh! No! 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 Oh! Ah! Ah! L'ho fatta atterrare dolcemente, come sopra una torta di crema e cioccolato! Ottimo lavoro, eh? Anna sarà così delusa che non siamo riusciti a trovare Rosie! Beh, io non vedo l'ora di rimettermi a giocare su quella sedia che gira e va su e giù! Ah, ciao! Bentornati! Sì, Rosie era solo andata a bere un po' d'acqua, è rientrata appena siete usciti! Allora, a chi tocca? Allora, a chi tocca?